Il mondo alla febbre, secondo il WWF. L'organizzazione ambientalista nel suo rapporto annuale non fa sconti e si scaglia persino contro l'accordo sul clima di Parigi. Un aumento di 2 gradi centigradi della temperatura mondiale, il massimo consentito dall'accordo, nel Mediterraneo infatti metterebbe a rischio quasi il 30% della maggior parte dei gruppi di specie analizzate. Senza un taglio alle emissioni di gas serra, con il termometro che salirebbe di 4,5 gradi, sparirebbe invece metà della biodiversità. Le specie più a rischio sono le tartarughe marine e i cetacei. Due gradi di differenza sono quasi impercepibili a livello personale, ma a livello globale le cose sono differenti. In particolare il WWF chiede di approvare subito gli strumenti regolatori e legislativi per chiudere le centrali a carbone entro il 2025 e definire un piano globale e una strategia di decarbonizzazione a lungo termine.